Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Non c'è coronavirus che tenga. Anche quest'anno l'Università d'Estate, promossa da Fondazione Lepanto, non solo ha avuto regolarmente luogo nonostante l'emergenza Covid, ma si è rivelata addirittura un grande successo, poiché la formula online, obbligata dalle limitazioni ancora vigenti, ha fatto aumentare significativamente il numero delle iscrizioni, consentendo la partecipazione anche a coloro che magari non avrebbero avuto l'opportunità qualora si fosse svolta in presenza. Circa 500 le persone in collegamento peraltro da tutto il mondo, Stati Uniti, Germania, Polonia, Lituania, Svizzera, Croazia, Brasile, Colombia, Cile, Portogallo, Tunisia. Il direttore scientifico dell'Università d'Estate, professor Giovanni Turco, ha inquadrato il tema di questa settima edizione, ovvero i fondamenti dell'etica, principi, diagnosi, azione, evidenziando come il nichilismo contemporaneo abbia la pretesa di giungere, mediante una prassi certamente rivoluzionaria, a identificare essere nulla, rendendo fluido e irreale. In quest'ottica invece è necessario riscoprire il primato dell'essere e della normatività essenziale, cioè iscritto nella natura delle cose. Parlando dell'etica tra rivoluzione e contro rivoluzione, il professor Roberto De Mattei, presidente della Fondazione Lepanto, già vicepresidente del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, e docente di storia moderna in varie università italiane, ha chiarito innanzitutto cosa si debba intendere col termine etica. Essa ricerca la norma suprema dell'agire umano e rimanda ad una sfera di leggi e di valori che sono assoluti in quanto agiscono indipendentemente dalle contingenti storiche e universali perché validi per ogni uomo, in ogni luogo e in ogni tempo. Tali leggi e tali valori confluiscono in quella che viene definita legge naturale, che è poi una legge razionale, che l'uomo riconosce nel creato. Essa ha un suo fondamento apodittico, quello cioè di fare il bene e di evitare il male, il che azzera la teoria errata del male minore. Il fine non giustifica mai i mezzi se i mezzi sono cattivi e illeciti. Mal organizzato sono ad esempio le rivoluzioni. Il professor Plinio Correa d'Oliveira ne ha individuato le fasi storiche nell'umanesimo, nella rivoluzione protestante, in quella francese, in quella comunista e poi nella quarta rivoluzione seguita a maggio del 1968. Alla luce di quelle grandi categorie è possibile anche comprendere la nostra storia nazionale, sin dal suo inizio, nel 1861, quando con Cavour si passò dal trinomio Dio-Patria-Famiglia, presente nello Statuto Albertino, alla formula Libera Chiesa in Libero Stato, che indica un sostanziale agnosticismo ed esprime la separazione dalla politica e dalla morale, separazione giunta sino ai giorni nostri. Della teorizzazione e la dissoluzione, dalla rivoluzione sessuale alla teoria del genere, si è occupato invece José Antonio Ureta, scrittore e giornalista, che dopo un articolato e puntuale excurso storico, ha evidenziato le conseguenze politiche della rivoluzione molecolare, tematizzata dal filosofo francese Pierre-Félie Guattari. Tra tali conseguenze, in primo luogo, figura l'obiettivo di fermare il flusso della normalità, poi quello di intensificare la protesta, ciò che i gruppi anarchici sono riusciti a attuare in tutto l'Occidente dopo la morte di George Floyd a Minneapolis. Il prossimo passo sarà quello di annullare la capacità di risposta dello Stato, chiedendo di tagliare i fondi alle forze dell'ordine. Infine, l'intento è quello di raggiungere il livello di saturazione, che consiste nell'istituzione di aree totalmente autogestite dagli anarchici. È nostro dovere denunciare le ideologie che hanno preparato questa rivoluzione postmoderna, ha detto Ureta, e combattere con energia la guerra condotta contro la Chiesa Cattolica. Nella seconda giornata di studi dell'Università d'Estate, ad approfondire il fondamento metafisico dell'etica, ha provveduto il professor Umberto Galeazzi, accademico ordinario della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino. Quello che nella fondazione della metafisica dei costumi, per Kant è il principio della moralità, cioè l'autonomia della ragione, intesa in senso forte come autolegislazione, per San Tommaso è al contrario il principio dell'immoralità. Solo in Dio, infatti, si trova il fine ultimo, conseguibile in modo perfetto, solo raggiungendo il sommo bene, il vero, nella sua totalità. Di valutazione dell'atto morale e delle azioni contemporanee, si è occupato padre Serafino Lanzetta, docento di teologia dogmatica, presso la Facoltà Teologica di Lugano. L'illustre relatore ha individuato l'esistenza di azioni intrinsecamente cattive, in quanto, per se stesse ed in se stesse, sempre gravemente illecite, come la bestemmia, lo spergiuro, l'adulterio, la contraccezione, nonché tutte le azioni contro la persona umana, come l'omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia, il suicidio volontario e via elencando. Inoltre, muovendo dal rifiuto della morale giusnaturalista, conseguenzialismo e proporzionalismo rappresentano due chiari esempi di deviazioni contemporanee, poiché tengono conto quasi esclusivamente dell'intenzione, delle circostanze e delle conseguenze di un atto morale, declassando però intenzionalmente l'importanza dell'oggetto nel medesimo. Deviante anche la teoria detta della libertà fondamentale. In questa visione, siccome l'uomo è trascendentalmente aperto a Dio, resterebbe fondamentalmente orientato sempre a Dio, il che qualificherebbe un'azione semplicemente come opportuna o inopportuna, giusto o sbagliata, ma mai come immorale. Così però, ha osservato padre Lanzetta, si potrebbe giustificare qualsiasi azione peccaminosa. Sbagliato è anche il tentativo di leggere a Moris Letizia come nuovo paradigma, teso in una visione di morale della situazione, a sostituire l'amore e la carità alla legge morale naturale, agganciandosi direttamente a Gaudium Ex Pes per superare il gius naturalismo di umane vite e far cadere l'oggettività dell'atto morale in sé come inutile o irrilevante. Possiamo sicuramente accorgerci dei danni che queste teorie nuove hanno procurato e continuano a procurare la Chiesa, ha concluso padre Lanzetta, in riferimento ad un lassismo etico-morale che ormai infesta un po' tutto il popolo di Dio. Il dottore Ettore Gotti Tedeschi, economista e banchiere, dal 2009 al 2012 presidente dello IOR, ha messo a fuoco l'attività economica nel quadro dell'etica. L'economia inventa utopie quando deve prendere decisioni di carattere politico, ha detto, come dimostrano ambientalismo e malthusianesimo. Se però un'utopia di carattere economico viene incorporata nel magistero della Chiesa, essa diventa un'eresia. In tal senso preoccupa l'appuntamento previsto da Sisi per il prossimo autunno dal titolo Economio Francesco, poiché affronti i problemi economici mai nelle loro cause, bensì soltanto nei loro effetti. Ciò è inquietante poiché produrrà decisioni e indicazioni inevitabilmente erronee in campo morale, come dimostra già oggi l'esclusione di fatto della dottrina sociale della Chiesa, resa inapplicabile. La professoressa Giorgia Brambilla, docente presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e presso la Pontificio Università Lateranense, nel corso del suo intervento dal titolo I fondamenti della bioetica e il valore della vita umana, ha presentato i quattro modelli bioetici tradizionalmente proposti. Quello liberal-radicale, che tende a considerare la libertà alla base dell'etica, partendo dall'inconoscibilità dei valori. Il modello pragmatico-utilitarista, sorta di soggettivismo che calcola le conseguenze di un'azione in base al rapporto costo-beneficio, come nel caso del contrattualismo. Il modello socio-biologista, per il quale la società nella sua evoluzione produce e cambia valori enormi funzionali al suo sviluppo, il che comporta un radicale relativismo etico. E il modello di una bioetica personalista che si rifà alle posizioni di Boezio e di Sant'Omaso d'Aquino. Solo il concetto metafisico di persona aiuta a fondare nella sua dignità i criteri base della morale. Bisogna superare il riduzionismo del concetto di ragione verificatosi nell'ambito del razionalismo illuministico e del positivismo scientista, ha detto la professoressa Brambilla, essendo ciò solo al servizio di fini utilitaristici, di fruizione e di potere. Il dibattito in corso nelle attuali democrazie liberali pretende che morale e bioetica si accontentino di una grammatica minima e quindi di un'antropologia debole. Ma una bioetica senza verità è irragionevole e priva di fondamento. Chiunque affermi che ogni essere umano è, per citare i trascendentari di Sant'Omaso, uno vero e buono in sé, ha proseguito Brambilla, non potrebbe mai concordare con un sistema come questo. Oggi la vera sfida della bioetica è quella di educare, che significa aiutare a riconoscere l'oggettività del reale, a partire dall'essere umano. L'ultima giornata di studi ha visto l'intervento di Don Marino Neri, docente di teologia e dogmatica presso l'Istituto di Scienze Religiose Sant'Agostino di Pavia, su etica e spiritualità. In tal senso è evidenziato come solo un'etica oggettiva, perché fondata su principi universali, possa costituire il prodromo all'azione della grazia, la quale ci unisce al Creatore e il verso di Lui ci fa tendere fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Una sintesi di tutti gli interventi sentiti è stata proposta dal professor Giovanni Turco, docente presso l'Università degli Studi di Udine, che intervenendo su etica, diritto, politica, principi e implicazioni, ha specificato come tanto l'etica quanto il diritto e la politica siano connesse alla questione del fondamento e rinvino così al perché fondamentale. Al termine, il professor Roberto De Mattei ha proposto un bilancio di questa settima edizione dell'Università d'Estate. Ciò che muove tutti noi è l'amore per la verità che è l'oggetto primo della nostra intelligenza, ha detto. Oggi intorno a noi l'intelligenza di molta atrofizzata e prevalgono spesso sentimenti e passioni disordinati. Una delle cause della crisi nella Chiesa è proprio questa. Purtroppo i pastori hanno smesso di studiare e si rivelano inadeguati ad affrontare i complessi problemi contemporanei proprio perché all'amore della verità da cui dovrebbero essere mossi hanno sostituito una gestione puramente politica delle cose ecclesiastiche. Ma la lezione del Vangelo è un'altra. Nostro Signore ci raccomanda un ideale di perfezione e per raggiungere questo ideale è necessario cercare innanzitutto la verità che è in noi per attingere poi la verità comune a tutti. Amare il vero significa amare il bene e chi ama il vero e il bene non può fare a meno di comunicarlo. E sono questo il compito e la consegna affidati a ciascuno dei partecipanti all'Università d'Estate per aiutarli a combattere ogni giorno con le armi della fede la propria buona battaglia. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast cattodici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioRomaLibera.org